Occhio, questo settore scopo Abbiamo contratti più ricchi, ma anche più rischiuti Occhio, questo settore scopo 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 Abbiamo vinto, no? La zona sicura è piuttosto lontana Occhio, questo settore scopo Arrivano dei nemici Occhio scopo Occhio scopo Occhio scopo Occhio scopo Occhio, questo settore scopo Occhio 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 scopo Ritorni in campo, forza, vendicati. Gas in avvicinamento. La zona sicura è piuttosto lontana, datevi una mossa. La tua squadra è tra le prime cinque. C'è attività nemica. Sono contrasti con premi maggiorati. Cercate di incassarli per primi. Nemico in arrivo nell'area. Ritorni in piedi. Eliminali. Vittoria! Vi siete presi quello che vi aspettava. Supporto aereo. Bersaglio marcato. Confermato. Longbow 3-1 in zona. Attacca... Vittoria! 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 Sì, mi massacra! Sì, mi massacra! Sì, mi massacra! Sì, mi massacra! Ogni stronzi hanno sempre già rispettato il lavoro! Sì, mi massacra! 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 Cosa! Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.